Non ce l'ha fatta Leona Olejnic, la 33enne, che il 3 settembre scorso a Francavilla era stata pugnalata 11 volte da un 27enne. Secondo le ricostruzioni, i due si erano conosciuti su Facebook e al momento del rifiuto da parte di lei di riconoscersi proprietà esclusiva dell'uomo, lui le è piombato nel cortile di casa, armato di un coltello da cucina. L'aveva già colpita 11 volte quando il pastore abruzzese della ragazza è intervenuto mettendo l'aggressore in fuga. Per le gravi lesioni all'addome e al torace, a Leona era stata trasportata al Santissima Annunziata di Chieti, per poi essere trasferita al Policlinico Gemelli di Roma. Qui sembrava che le sue condizioni stessero migliorando, fino al tragico epilogo di ieri, quando la giovane è deceduta dopo 45 giorni di agonia. Adesso, quindi, cambierà anche la posizione davanti ai giudici dell'accusato, che ora dovrà rispondere di omicidio. È stato un raptus di gelosia, aveva dichiarato l'avvocato difensore, una linea difensiva adottata spesso in questi casi, che però mette in luce l'intento possessivo e sessista. Questo è l'ennesimo ginocidio. Secondo gli ultimi dati Istat, riferiti al 2017, in Italia viene ammazzata una donna ogni tre giorni. A Leona è solo l'ultima delle molte donne in Abruzzo che quest'anno sono state vittime della violenza patriarcale.